E' dedicato a Gianni Oberto, già presidente del Consiglio e della Giunta Regionali, appassionato di montagna, ma anche avvocato e giornalista, il nuovo tascabile di Palazzo Lascaris. Dopo la sua morte è stato istituito il centro a lui intitolato Presso la Biblioteca della Regione, che ogni anno premia i giovani che con le loro tesi di lauree approfondiscono la conoscenza di aspetti specifici del Piemonte. Il tascabile è in distribuzione gratuita presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale e presso la Biblioteca.